Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Stava prendendo il sole quando ad un certo punto è stata molestata da un uomo completamente nudo che ha cominciato a toccarsi. È quanto accaduto a una donna ieri intorno alle 13 nel tratto di spiaggia libera che si trova nella parte più a nord del litorale di Civitanova Marche. La giovane è poi riuscita a scappare e a chiamare la polizia. Si tratterebbe di un italiano sui 50 anni in base alla descrizione fornita dalla stessa donna. L'uomo, approfittando anche del fatto che in spiaggia ci fosse poca gente, trattandosi dell'ora di pranzo, si è avvicinato alla ragazza sola e ha cominciato a toccarsi le parti intime di fronte a lei. A quel punto la giovane si è alzata di corsa ed è scappata. Lui l'ha inseguita riuscendo anche a raggiungerla. Lei è corsa via di nuovo e questa volta l'uomo non è stato in grado di avvicinarsi. Una volta allontanata, sicura di non averlo più alle calcagne, la giovane donna ha chiamato la polizia. Sul posto, subito dopo la telefonata, sono intervenuti immediatamente gli agenti del commissariato locale, che hanno raccolto la testimonianza della giovane molestata da quello sconosciuto. La ragazza ha anche fornito un identikit dell'uomo che l'aveva infastidita poco prima. Un uomo appunto sui 50 anni, come si diceva, italiano. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, però, di quell'uomo non c'era più alcuna traccia. Era sparito nel nulla. Non è la prima volta, purtroppo, che in quella zona, dove solitamente c'è poca gente e resta anche abbastanza isolata, si verificano episodi gravi come quello avvenuto ieri.